è fatto come un nido abusivo hanno a vedere la situazione che è venuta in sabbia il lama e il lavare, l'entra non si può stare della puzza ogni sei mesi persiste questo si, si, ogni sei mesi ma ti chiamate al comune? si, o prefetto comune all'uccai dell'interessato e cosa mi hanno detto? allora signora, signora ti chiamassero, reclamassero che puzza se come aveva una vita che stanno pure di qua, 200 metri a fogna ma signora, pure che non la vogliono hanno detto che non ha tocca hanno detto il comune che qua non ha tocca e che vuoi me? la strada l'abbiamo fatta noi i luci non mi ha mai messo ma che tu mi fanno? il comune dice che non è competenza loro? ma così dicono ma non questi sindacoli purtroppo è così ma ognuno non mi ha fatto noi se giusto mentre come non mi ha messo l'acqua non mi facciamo pure la fogna a strada non la facciamo pure noi non è strada comunale come dite voi? nell'acqua ne mandano una repurazione della fogna e quale fogna abbiamo? diciamo che c'è un bambino di sabbia di sabbia e a mio figlio urgente ma la tirano urgentemente se là mi porta Giuseppe al comune con l'ambulanza e faccio una guerra se loro lo semento non dà la testa e mi vengono ma la tirano e io mi porto a Giuseppe domani mattina con l'ambulanza con l'infermiera ma un bar che mi metto davanti al comune e chiamo tutti in televisione un'azione che si ripete dopo sei mesi sempre si ripete perché non hai mai possibilità non perché le promesse che ha fatto il sindaco ancora non sappiamo circa un mese fa sono andato là al comune a discuotere con lui e mi ha detto non ho nemmeno un minuto di perdere con voi signor Speranza e perché? la motivazione perché? perché hanno fatto di tante promesse non solo a me a tutti i cittadini non le mantengono e quindi gli sembra una vergogna per loro a me non mi serve una vergogna perché siamo in diritto umano di tutte le persone perché bisogna capire una sola cosa nella vita noi lui si è offeso perché noi abbiamo chiamato la televisione gli abbiamo mandato la televisione al comune da allora in poi lui a me mi ha odiato come a morte diciamo ma io non gli ho mandato la televisione per fare pubblicità un cartellone di pubblicità gli ho mandato la televisione perché ci sta un disabile là dentro che è allettato nel letto che non si può muovere perché è allettato che dice io mi sveglio e me ne vado sento puzza e me ne vado o mi metto in una seggia rotella e me ne scappo lui è allettato 24 su 24 abbiamo fatto pure un appello alla prefettura di Reggio Calabria e ancora se la sta prendendo anche lui con cometo questo non mi sembra a me una prefettura mi sembra uno studio di scuola quando uno va a scuola dobbiamo fare le lezioni bisogna aspettare ma qua non c'è da aspettare qua c'è da prendere atto del provvedimento subito perché qua dentro ci devono mettere una sola cosa in testa se loro non sono incapaci di fare questi servizi di autospurgo ogni volta che si riempie la bodola che ci trovano in alloggio dove sia edonio che possiamo vivere anche noi come umanamente perché lo scandalo di Palme è una vergogna propria adesso sto venendo da Gioia Tauro e mi sono pure vergognato a passare perché quando passo con la macchina c'è una fognatura ce l'ho perso e nessuno si è messo là per vedere i suoi problemi sto venendo da Gioia Tauro adesso e ho rovinato pure la macchina perché c'è una fognatura ce l'ho aperto al più breve possibile al capo del prefetto di Reggio Calabria ci appelliamo a lui se può fare un intervento qui a casa oppure un incontro io lo faccio lì di persona con lui al più breve possibile perché non si tratta qua non si tratta di cose diciamo non mi viene nemmeno la parola a me a dirlo perché qua abbiamo un bambino lo ripeto più di una volta che è allettato nel letto e non si può alzare